Evviva la ventricina! L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. Davia Guglielmo Marconi, Centro Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. L'appuntamento domenica 25 luglio alle ore 10 a Rivisondoli. Andate Dico, ti sceglie un grande applauso Anderico! No, sono contento, voglio fare una delica centrale, tanti auguri che ti sovresta! Amico di spazio, amico di migliaia, ma che tipo milioni di chilometri! Andate auguri! Beh! E' una parte sfida, guadagnati! E' una parte, fiume! E' una parte,주, guadagnati! E' una parte, suonare, esparso, un italiano e una parte di infine, E' una parte , la parte di fiume, una parte di fiume, una parte di fiume, bravo , bravo , bravo , bravo , bravo, bravo! E' una parte, mi riuscite, ma, un po' è una parte di fiume, Buongiorno! Buongiorno! Vai Michele, vai! Forza, forza! A tutta, a tutta! Forza, forza! Ci siamo, dai! Bravi, bravi! Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta! Forza, 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 bravi! Forza, forza, forza! 200 metri! Ecco i campioni! Vai, vai, vai! 200 metri! Giulia, fatti bene! Spontate ragazzi, sono i massaggi! Uno è un Si spegne il postato! Ci sotto, potrà trovare il link olan B2 alternative... Si spegne la cellula. Grazie a tutti.